Musica Torno a Soveria Mannelli dopo vent'anni, in realtà sono tornato altre volte, ma questa è una volta speciale perché festeggiamo il ventesimo anniversario della prima notte bianca, che pare che io abbia inventato, in realtà mi sembra l'invenzione dell'acqua calda. Tutti passiamo delle notte bianche, genere gioiose, e si tratta per una volta di festeggiarle tutte insieme, tutti insieme, la cosa piace, funziona. Soveria Mannelli ha un primato che occorre celebrare. Io mi riprometto di essere qui fra dieci, fra venti, fra trenta, fra quaranta, cinquanta anni, perché io sono ottimista, avendo passato tante notti bianche. Grazie a tutti.